Torna dal 6 al 10 giugno l'Asolo Art Film Festival, rassegna cinematografica internazionale dedicata ai film sull'arte con concorso, proiezioni e molti eventi collaterali come retrospettive, rassegne, mostre d'arte, workshop e laboratori. Abbiamo intitolato l'edizione Sguardi inopportuni, poi andando a cancellare quella in, perché riteniamo che questi sguardi, che sono sguardi diversi, portati avanti anche da minoranze, sia razziali, sessuali, etniche, possano in realtà risultare quanto mai opportuni nel tempo presente per dimostrarci quanto sia importante dare spazio alla diversità e alla multiculturalità. In questo senso, nell'ambito del festival, ci sarà una rassegna dedicata alla cinematografia al femminile, che verrà in particolare esaltata l'8 giugno attraverso un dialogo tra artiste sul tema della video art di genere. Ci sarà poi una rassegna speciale dedicata alla cineasta americana Shirley Clark, filmmaker americana indipendente degli anni 70 che si interessò ai problemi delle minoranze, ed ancora un focus speciale sull'est Europe in Russia, con la proiezione di alcuni capolavori anche inediti in Italia. I film, che partecipano al concorso, andranno poi a far parte dell'importante cineteca d'arte presente ad Asolo.